Sono il boss, ma si sta solo in cima. Sio Ted, mi sei tanto mancato. La mia ragazza. Non puoi risolvere tutto con i soldi! Invece si, Tim. Non sei cambiato affatto! Scusatemi, non vorrei interrompere, ma... Oh, cavolettaccio. Sono negli affari di famiglia. E ora voi lavorate per me, boomer! E marciate. Quello sono io? La Baby Corp vuole che viviate questo latte in polvere per un'ultima missione. Vuoi trasformarmi di nuovo in bebè? La mano dei messaggi! Dammelo! Vai i capelli! Ehi! Il boss è tornato, baby! Io lavoro da solo, o quantomeno non con lui. Dobbiamo lavorare insieme per salvare gli affari di famiglia. Ci troveremo ad affrontare bambini cattivi, bambini impietanti... Non guardarmi! Bambini da galera? Buona la colla! E bambini ninja? Siete una specie di ninja boy band? Ma cavolo, cavolo, cavolo! Ora pianiti forte! A sinistra! A sinistra! Io vado dove mi dice il navigatore! A sinistra. Grazie, navigatore. Ce l'abbiamo fatta? Sì, io e te. Stavo parlando di me, Precious. Oh! Ah! Che schifo!